Ciao a tutti, in questo video ci inoltreremo alla scoperta della parte più intima del nucleo appunto che è fatto di quark, in realtà ne abbiamo già parlato in qualche video precedente quando abbiamo parlato del glooball, quindi in realtà qui ripartiamo un po' dalle basi per vedere appunto perché i nuclei sono fatti nucleoni e quindi i nuclei e quindi la materia è fatta di quark perché sono tre, perché sono tra virgolette colorate e così via. Un'altra delle cose da dire, si dice quark o quark, in realtà appunto Gelman lo prese dalla Finnegan's Wake di Joyce dove fa rima con quark, quindi a la A proprio, però poi lui in alcune sue memorie dice no ma in realtà io volevo che si pronunciasse con la O, mi sono arrampicato sugli specchi per trovare un motivo per cui sia pronunciabile con la O e quindi quark. Fate voi, io lo userò intercambiabilmente tutte e due a seconda di come viene in quel momento. L'intima struttura del nucleo forse ma insomma probabilmente sotto il quark, i quark non c'è nulla, così come sotto i leptoni non c'è nulla. Perché i quark? Perché a un certo punto la peccanica quantistica aveva messo insieme un po' tutta la descrizione del mondo, quindi anche la descrizione dell'atomo, tantissimi atomi, tutta la tavola periodica di Mendeleev era in realtà riconducibile ai soli protoni, neutroni ed elettroni. Dopo un po' di studi con i primi acceleratori, le prime particelle cariche ad alta energia si era capito che il nucleo era massivo e molto piccolo e composto da quelli che poi verranno chiamati protoni e neutroni e però le dimensioni, la grandezza era data dagli orbitali atomici degli elettroni. Fino a qui tutto bene però poi cominciano a spuntare fuori altre particelle, serviva una particella che tenesse insieme il nucleo. Questa è una lista di adroni che quindi sono, adesso lo sappiamo, composti di quark e questo celato in maniera pessima da questo riguardo qua, questa è solo una lista di alcuni di quei soggetti qui, ce n'erano sempre sempre di più e a quel punto non poteva essere che la fisica che predilige cose semplici avesse tutto questo zoo, veniva chiamato lo zoo delle particelle elementari, tante tante troppe particelle non era credibili. Quindi va, questa addirittura, questa è recente, 59 nuovi adroni LHC. Ognuno di questi oggetti, ognuno di questi puntini qui, in funzione del tempo, mostra i nuovi adroni che vengono scoperti e sono composti di quello che adesso sappiamo essere sei tipi di quark differenti e li potete fare in maniera, in vari tipi, come quark, anti-quark, quindi fate un mesone, quindi spin intero, oppure a tre o anche a quattro o anche a cinque, eccoli qua, vedete, charm, anti-charm, quark, 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 ci sono queste qui. Non sono vere e proprie particelle, in realtà vengono chiamate risonanze perché sono talmente pesanti e che decadono in un tempo rapidissimo, tanto più che, proprio perché il tempo in cui decadono realmente è rapido, non si può stabilire la massa, proprio in virtù del principio di indeterminazione di Heisenberg, che dice che l'incertezza tra l'energia e il tempo, in questo caso di decadimento, deve essere maggiore di H tagliato. Comunque sia, questi sono solo 59 nuovi oggetti scoperti da LHC e quindi, insomma, non poteva essere. Anche se questo è un grafico recente, in qualche maniera riprende l'idea che ci si ritrovava con troppe, troppe particelle, affinché queste potessero essere le vere particelle elementari. Questo l'abbiamo visto tante volte, infatti è il quadro delle particelle elementari attuali, questa è quella estesa in cui sono mostrati anche le antiparticelle, cambia poco. Per tutta una serie di simmetrie di cui abbiamo parlato più volte, se hai una carica elettrica, devi avere anche la tua antiparticella, il motivo fondamentale è che devi conservare l'energia in maniera relativistica e quindi Dirac dice, guarda, se lo devi fare, non lo puoi fare con i numeri, ti servono almeno quattro numeri, almeno una matrice e quindi ecco qua, così debotto, senza senso, anche le antiparticelle. Ma non è questo l'argomento di oggi, l'argomento di oggi è che il fatto che appunto abbiamo sei quark. I nomi ovviamente sono completamente arbitrari, up e down sono gli unici che hanno un vago senso, su e giù, perché in realtà questi hanno, una volta che sono nei nucleoni più o meno la stessa massa, sono molto simili e quindi si pensava che potessero essere come lo spin dell'elettrone, che può essere diretto verso l'alto e verso il basso, questo viene chiamato isospin, cioè una cosa analoga allo spin che in qualche maniera descrive, non si può parlare di rotazione, ma diciamo la rotazione dell'elettrone se in verso orario o anche del protone o verso anti-orario, qui se è rivolto verso l'alto, ma un alto virtuale, di un altro spazio dell'isospin, ho un quark up, se è rivolto verso il basso un quark down e in qualche maniera mettevo insieme tutti i nucleoni. Dopodiché però poi vengono fuori anche questi altri, Charm, Strange, Top e Bottom, questi sono molto molto pesanti, qui parliamo di due MEV, qui 175 GEV, quindi 173.000 MEV e a loro volta sono tutti molto più pesanti dei leptoni, l'unico dei tre, perché poi i neutrini si sa quanta è la massa, è molto molto piccola, però l'elettrone ha una massa che è circa un duemillesimo di quella dei tre quark, più tutti i cloni insieme, quindi un duemillesimo, uno su 1850 la massa del protone, il muone è 200 volte più grande dell'elettrone e il tau è molto più pesante, un GEV e mezzo, ma insomma è molto molto più leggero, o meglio c'è la stessa massa del Charm, è più leggero del Top e Bottom. Questo è quello più recente scoperto, l'ultimo si presume, si spera, anche perché 3 e 3, anche qua l'abbiamo detto tante volte, non si capisce perché debbano essere 3 e 3, ma tant'è, 3 e 3, e il quark più pesante è scoperto al Ferminab nel 95, quindi in tempi relativamente recenti. I quark sono tenuti insieme dai gluoni, anche questo l'avevamo visto nel video precedente in cui i gluoni da soli possono anche tenersi insieme con una palla di stringa o una baracca, le interazioni deboli che però mutano un quark in un altro e fanno i decadimenti nucleari sono queste 3, il fotone sono quelle elettromagnetiche e vissero tutti felici e contenti, soprattutto dopo che venne fuori l'X. Notate di nuovo che la massa del Top è superiore anche a quella del famigerato X, quindi insomma un oggetto estremamente pesante e anche qua come si riesca a ridescrivere la giratarchia delle masse in virtù della rottura di simmetria, in virtù del meccanismo di X non è ancora per niente chiaro, cioè in altre parole se tutto è simmetrico, se tutto dovrebbe essere uguale, com'è che io mi ritrovo con una disuguaglianza appunto in cui qui avete i ricconi e qui avete i poveracci se la ricchezza è assimilabile alla massa. Lo stesso vale per gli elettroni. Ci sono varie teorie ma insomma il meccanismo della formazione delle masse e perché sono così diverse tra loro non è ancora assolutamente risolto. Sono 6, questi pesanti decadono subito, questi qui sono quelli che più o meno stanno più tempo e come ci si arrivò? Ci si arrivò non solo la considerazione di simmetria dal fatto che appunto c'erano tantissime particelle ma anche da quello che veniva chiamato lo scattering inelastico, ossia io mando a sbattere roba pesante contro il nucleo e vedo che c'è dentro una struttura. Questo è preso dall'Alzenmartin che di nuovo su questi argomenti fa delle introduzioni molto chiare e soprattutto sfruttabili in questi contesti. Lui dice guarda l'analogia è a sinistra lo scattering cioè l'urto di particelle cariche, elettroni soprattutto, con l'atomo e se l'atomo non avesse una sottostruttura cioè non fosse un nucleo denso ovviamente molto più piccolo di questo e circondato da elettroni avrei una all'aumentare dell'energia una legge di potenza, ossia una retta. Se invece io via via che aumento l'energia della particella penetro sempre più vicino e in qualche maniera noto che c'è una disuniformità nella mia struttura atomica allora viene fuori questa deviazione da questa retta qua ideale e quindi scopro che l'atomo ha una sottostruttura, questo per esempio era lo scattering Rutherford cioè io mandavo delle particelle alfa, lui Rutherford, mandavo delle particelle alfa ossia dei nuclei di elio del decadimento quindi energie del MEV quindi siamo con un'energia molto molto più bassa degli acceleratori ma parliamo anche dell'inizio novecento vedo che in generale loro vanno dritte per dritte salvo rari casi in cui rimbalzano in maniera mostruosa perché appunto sono andate a colpire il nucleo e hanno fatto filotto sul flipper del nucleo. Si vede la sottostruttura anche qui è la stessa cosa cioè andando a energie molto più elevate qui l'analogia vedete lui non ci ha messo neanche le energie proprio solo per mostrare la qualitativa la struttura qualitativa però questo qui vedete credo che sia proprio di Rutherford perché nel 1911 su un bersaglio di oro mando queste particelle alfa in questo caso quindi non elettroni ma nuclei di elio due protoni e due neutroni lo scattering avviene al livello elettromagnetico con i due protoni e vedo questa struttura qua. 60 anni dopo nel 73 di nuovo ho una probabilità di scattering in questo caso qui forza elettromagnetica qui forza nucleare forte in cui vado e sbatto in questo caso mando un protone che però poi so essere composto di tre quark ma anche fosse una particella elementare diciamo che mando un protone e di alta energia con un protone contro un protone fermo ho una probabilità di interazione qui si vede male ma questa alfa ha una s che vuol dire l'interazione avviene seguendo la forza forte qui è la forza elettromagnetica anche qua deliri senza fine perché la forza forte poi è difficile da rinormalizzare ma comunque sia qui si scambiano un famigerato gluone qui si scambiano un elettrone ma anche qui vedo che il protone fermo mio contro cui ho mandato un protone altissima energia ha una sottostruttura perché mi devia dalla retta che io avevo ipotizzato nel caso che il protone fosse un oggetto uniforme come ad esempio l'elettrone e quindi in analogia con questo e anche appunto per lo zero delle particelle si comincia a dire vabbè ragazzi qua non c'è niente da fare il protone il neutrone e anche i mesoni i pai tutta quella zoologia che era venuta fuori hanno una sottostruttura una sottostruttura che poi appunto è quella fatta di quark appunto se vogliamo andare a prendere il grafico di prima se appunto andare a prendere che ne so il pai meno è fatto da un down e un anti up il pai più è fatto da un up e un anti down il pai zero è up anti up e down anti down anzi una combinazione di questi e tutta questa zoologia qua ognuno con la sua massa perché appunto ognuno ha i suoi quark notate che fino a qui fino al pai zero parliamo di particelle per bene che non coinvolgono i quark più alti cioè gli strange e così via appena introducite un terzo quark ovviamente le combinazioni sono non dico illimitate ma sono moltissime tanto più che vengono messe in tutta una serie di ottetti spinori di oggetti irregolari che sembrano un po' i lego per i bambini che descrivono le varie simmetrie ma comunque sia ne vengono fuori molti di più perché ovviamente avere il quark strange peggio mi sento quando aggiungete il char il top e il bottom questi qua i k più k meno e k zero sono fondamentali per la violazione di cp ma ne parleremo un'altra volta altrimenti non si finisce più ed è tra l'altro un argomento complicatissimo quindi k zero ricordatevi perché sono importantissimi ognuno ha la sua massa la massa è determinata sia dagli e dagli a dai quark che costituiscono ladrone sia però dai gluoni che in realtà costituiscono il grosso della massa di questi oggetti qua possono avere spin questi qui sono tutti a spin intero e a differenza appunto del protone del neutrone che sono vedete che questi sono spin intero perché sono a coppie di due tra l'altro e sono mesoni mentre il protone neutrone sono a tre a tre e hanno spin semintero e sono fermioni e lo stesso vale per l'isospin e c'è tantissima matematica dietro e quindi possiamo solo cominciare ad addentrarci però col protone si riesce a fare abbastanza semplicemente il protone ha due quark up e un quark down e l'altra cosa interessante dei quark è che hanno una carica frazionaria cioè noi vediamo solo cariche intere più o meno uno l'elettrone ha meno uno il positrone ha più uno il protone ha più uno l'antiprotone meno uno ma non vediamo mai cariche frazionarie sappiamo però che i quark devono avere cariche frazionarie ma queste non si possono vedere perché come avevamo detto l'altra volta se poi io stiracchio a lontani quark tra loro ne crea altre particelle e non riesco a vedere le cariche che sono a un terzo possono essere un terzo due terzi più o meno tanto più che appunto il quark up ha più due terzi più due terzi della carica del del protone dell'elettrone più due terzi fa quattro terzi e il down a meno un terzo quattro terzi meno un terzo fa tre terzi uno e vissero felice e contento il protone è carico a carica uno se mi azzarda a togliere uno di questi crea altre particelle e non vedrò mai salvo cose però la teoria proprio ti dice che se tu aumenti l'energia non potrai mai vedere comunque il quark up o down con cariche frazionarie il neutrone è molto semplice si tratta semplicemente di togliere un quark up e metterci un down quindi anche qui un up e due down più due terzi meno un terzo meno un terzo carica elettrica complessiva zero è neutro più o meno la stessa massa è leggermente decade nel protone e per questo appunto si parlava di termini di sospine cioè come se fossero quasi la stessa particella e chi tiene insieme la baracca sono queste molle piccole molle che sono i gluoni e sono quelli tra l'altro che danno tutta la massa a protone e neutrone 938 mev il protone e quindi molto più pesante del punto 1850 volte la la massa del la massa dell'elettrone il neutrone nel nucleo sta bene felicemente ogni tanto i nuclei pesanti decadono però da solo il neutrone non ce la fa si sente solo è disperato e dice no io voglio decadere voglio diventare un un protone perché appunto è leggermente più pesante quindi decade in un protone seguendo la interazione debole ci mette grosso modo e nel grosso modo c'è tutto vediamo qual è il problema 14 minuti e metà e mezzo 15 minuti ha una vita media esattamente con tutte le particelle instabili lui sta lì c'è una certa probabilità se io ho 100 neutroni questo mediamente questi decadono ogni 14 minuti me ne trovo metà e così via o meglio la la vita media del logaritmo di due quindi in realtà 10 minuti a seconda di come calcolata risponenziale ma non è importante quello che è importante che qui ci stanno due numeri ci sono due numeri 877 879 perché in realtà c'è una discrepanza nella misura vediamo prima il decadimento vedete qui nel il mio neutrone nel diagramma di Feynman ha up down down questo down muta in un'app come si fa a mutare lo può fare però dovete conservare la carica elettrica quindi la carica elettrica questo segno meno perché da meno due terzi a più un terzo avete un meno uno è portato via dalla w che è una del punto dei bosoni portatori di ca di di carica della forza nucleare debole questo qui è pesante decade subito decade in quello che gli pare però soprattutto nel 99,9 per cento dei casi emettendo un elettrone ed ecco qui che la carica è conservata però devo conservare anche il numero elettronico e anche un antineutrino elettronico e per questo l'avevamo visto tante volte che i cadimenti nucleari non hanno uno spettro monocromatico degli elettroni perché queste due energie si ripartiscono più o meno a caso e con una struttura che potrebbe far capire anche se non ci si riesce se se e quanta è la massa del neutrino se il neutrino è l'antiparticella di se stesso ma comunque sia decade la cosa interessante è che non c'è un accordo sulla decadimento del del neutrone cioè ci sono due modi per misurare la vita cioè uno direbbe una cosa così ovvia come il neutrone si sa quanto vive no perché ci sono due modi per misurarlo e e c'è una differenza di 10 secondi in questo in questo articolo qui si propone di andare nello spazio per fare questa misura lui dice i neutroni liberi hanno un tempo di vita di 880 secondi però c'è disaccordo tra i due tipi di lavoro di misure di laboratorio di circa 10 secondi e ancora esistono per tanti anni è una questione solo strumentale o c'è nuova fisica oltre il big bang uno ovviamente spera che ci sia nuova fisica perché come avete capito la disperazione alberga sovrana e quindi e quindi boh a quindi lui loro in questo articolo qua appunto parla della vita media di 15 di 15 minuti decadimento beta interazione debole ci sono due tipi di misure con un fascio di particelle e imbottigliati quelli su fascio vuol dire che tu prendi i protoni o gli elettroni che escono dal decadimento beta appunto perché voi immagazzinate fate dei fasci di particelle di neutroni freddi di bassa energia all'altra energia decadono più lenti per il motivo di Lorenz vedi quanti escono in quelli invece nella bottiglia li mettete in una bottiglia magnetica un po come quello dell'antimateria li intrappolate là e vedete li contate periodicamente vedete che sono 190 80 70 e così via tutti e due gli esperimenti hanno errori molto precisi cioè nell'un per cento quindi la misura è precisa però sono in disaccordo e il fascio da 888 più o meno due secondi e la bottiglia da 879 più o meno 0 5 secondi con appunto un disaccordo di 8 secondi e mezzo che è 5 sigma le famigerate 5 sigma per dire guardate c'è una scoperta guardate c'è qualcosa quindi questo è un problema aperto che che è sorprendente che tra l'altro non è perché si va un po' a mode non viene data in tutta l'importanza che si merita il fatto che non si capisce quant'è il tempo di decadimento di una cosa talmente ovvia come il neutrone non che sia ripeto gli esperimenti sono sofisticatissimi e complicati ma il fatto che ci sia una discrepanza tra questi due si sarà probabilmente legato al tipo di misura ci sono state fatte varie ipotesi però resta il fatto che noi a tutt'oggi non sappiamo quanto in quanto tempo decade il neutrone o meglio che la misura differisce di 10 secondi non si fanno misure del picosecondo 10 alla meno 15 secondi qua con il neutrone non si capisce quindi loro vabbè dicono vabbè andiamo nello spazio questo è lo speto di elettroni emessi possiamo misurare il tempo di arrivo dei neutroni da lì risalire a questa misura qua interessante questo articolo però già ci ha portato un po' troppo fuori mano questo qua per esempio preso da wikipedia che con tutti i problemi che c'ha rimane sempre una fonte di immagini e di spunto interessantissima nel campo della fisica soprattutto fa vedere i 6 quark up e down strange charm top e bottom il top è questo gigantesco oggetto qua sono appunto più o meno in scala tra l'altro questo qui è più o meno il protone e quindi vedete che quelli grossi sono veramente grossi poi definire le dimensioni e così via è sempre una cosa complicata ma insomma più o meno tanto queste più o meno rendono l'idea il quark top è più pesante di un atomo di ferro sicuramente o di oro non mi ricordo comunque di un atomo molto pesante ed è gigantesco vuol dire che decade in un attimo e quindi può andare da cercare non è per niente banale ma insomma oramai appunto scoperti al fermi la bitop si trovano tranquillamente sul al cern e da lì proprio perché è pesante si cerca di studiarli in dettaglio ma anche su questo purtroppo ci dobbiamo tornare un'altra volta quello che vale la pena di accennare è l'angolo di cabibbo nob è rubato questo verrà ripetuto fino a che campo non serve a niente ma vale la pena di gridarlo comunque in cui lui appunto diceva bene ma il fatto che poi i vari quark possono decadere e mutare uno nell'altro vuol dire che in realtà l'autostato di massa cioè la caratteristica io ho una massa ben definita e la caratteristica io sono un quark up down strange ben definito sono due cose distinte è un po' il concetto che è anche alla base dell'oscillazione del neutrino e in questo caso lui diceva va bene quindi c'è la possibilità di decadere in uno stato di 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 interazione debole del quark down prodotto di interazione debole come come probabilità di due numeri o meglio di un angolo che viene 13 gradi in cui il quark strange ha una probabilità più bassa di decadere nel quark down e il quark down ha una probabilità più alta di restare quark down anche se appunto questo qui senza apice questo qui è l'autostato di massa cioè è un oggetto che ha una massa ben definita e e se volete è caratterizzato dal fatto io ho questa massa qua sono un down però ho anche un po' di strange un po' di up un po' di tutto mentre questo qui è a subito dopo il decadimento sono un quark down puro nell'interazione debole viene a 13 gradi in cui questa viene generalizzata da kobayashi e mascava che gli fregano in nobel e e quindi in realtà poi viene fatta una matrice a a 3 per 3 o meglio in cui ci sono tutte le probabilità che tutti i quark decadano negli altri quark e e qui sono mostrati sei quark le la la il colore più scuro nero vuol dire che la il valore della matrice è più elevato quindi in pratica vanno a coppia vedete l'up e down sono quelli e qui si riallaccia al discorso dell'isospin ossia che sono in realtà molto simili tra loro e quindi è molto più facile questo che è un down muto in un up o anche al contrario di solito appunto il down che diventa up decadimento del neutrone ma anche tra strange e charm e anche tra top e bottom però anche un top può diventare down e vedete che molto trasparente ma c'è e idem un quark up può diventare bottom o viceversa sono più scuro ovviamente quelle più vicine quindi anche questi quattro qua è più probabile appunto questa trasmutazione qui quindi ad esempio avevamo nel caso due per due l'angolo di cabibbo la matrice queste sono le masse di nuovo in un ca in una direzione mettete un w più un w meno ma insomma andate da qui la scala è logarittmica quindi andate dalle masse mostruose del top alle masse derivate del bottom e poi giù 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 fino all'up con emissione di w più o meno tanto per farla vedere questa è la famigerata cabibbo kobayashi mascava matrix matrice di cabibbo kobayashi mascava in cui appunto viene descritto la possibilità di mutare nei vari tipi e in questo caso per downs strange e bottom con ognuno di questi elementi qui che è mostrato qui con la probabilità appunto di andare da up a down da strange a down quello che volete vedete però i termini sulla diagonale sono vicini a uno non proprio uno questo addirittura un po più di uno perché un errore sperimentale probabilmente rientra nell'errore sono vicini a uno mentre quelli fuori della diagonale sono molto più bassi e niente in questa maniera avete la probabilità appunto di di mutarvi da 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 strange a beauty a down e così via ad up e così via la cosa interessante è che però se la questa somma qui al quadrato che vi dà la probabilità il quadrato della somma è il quadrato che vi dà la probabilità di transizione la somma non fa uno cioè in realtà se andate a prendere ad esempio la prima riga è fatta di quadrato la somma dei quadrati dovrebbe fare uno fa quasi uno eh siamo a due sigma e due quindi in realtà è un errore sperimentale eh però se per caso si stabilisse che questo oggetto qui non fa uno se le probabilità di transizione non fanno perché da qualche parte da parte e da qualche parte deve arrivare se le probabilità non fanno uno vuol dire che tu hai un eh vanno da qualche altra parte e quindi c'è nuova fisica oltre il modello standard in realtà i quad dovrebbero essere tre ci sono varie evidenze sperimentali per cui non possono essere più di tre però boh non si sa mai questo qui questa deviazione dal punto questo zero zero o quindici che manca per arrivare a uno di nuovo non dico che fa bene sperare ma è una possibilità una delle tante che probabilmente si ridurrà all'errore sperimentale l'altra caratteristica dei quark è il colore il colore viene fuori e se in pratica è ovviamente non so colorati è un altro numero quantico è un'altra caratteristica è un altro potere speciale dei quark il potere speciale del notaio di boris eh in cui avete perché viene fuori perché tra le varie particelle che si trovavano si trovava delta più più che ricorda un po' animal house comunque sia la delta ehm con carica eh due perché è fatta da tre quark up due terzi due terzi due terzi fa due oppure la simmetrica l'antiparticella delta la delta meno 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 no questa è la delta e basta sì la delta meno perché è meno un terzo meno un terzo meno un terzo meno uno ma è fatta da tre quark down dopodiché la questione dice sì va bene ma se sono identici come faccio a mettere tre tre quark identici nello stesso livello di fermi quando io so che essendo fermioni i quark ossia avendo spini semi intero devono avere tutti numeri quantici differenti eh resta di stucco questo è un barbatrucco ti invento un nuovo un numero quantico che è il colore quindi ognuno di questi è tra virgolette colorato a un numero quantico differente potrebbe chiamarsi pantera elefante e banana però appunto l'idea dei dei colori rende bene perché in analogia ai tre colori eh ne ho tre se li metti insieme viene bianco e bianco vuol dire che eh rispetto le i dettami della meccanica quantistica nel contesto della forza forte e i quark possono essere su cioè l'agglomerato di quark possono essere solo bianchi quindi possono essere fatti di particelle eh tre a tre appunto in cui la somma di questi tre numeri quantici mi deve dare bianco però ognuno è differente quindi possa avere la delta più più antiparticelle down down anti anti app anti app anti app e quindi anche qui sarebbe meno due sempre bianco oppure avere i mesoni che sono rosso antirosso verde antiverde blu antiblu tutte le combinazioni perché anche in questo caso una un quark e un anti quark che ha l'anticolore e quindi anche questi sono bianchi come abbiamo visto nei video precedenti ne possiamo anche fare a quattro tetra quark e penta quark quattro vuol dire mettere due e due di questi quindi due quark due anti quark due colori due anticolori penta quark vuol dire mettere uno di questi e due di questi non c'è nessun obbligo sul numero l'obbligo è sul colore devono essere bianchi questo qui apre tutto un mondo alle simmetrie su tre tutta una serie di deliri di conti sulla forza nucleare forte perché poi questi carica di colore viene portata dai gluoni che sono queste linee qui che sono in realtà le molle che abbiamo visto tante volte il gluone porta il colore sono gluoni virtuali reali e così via e qui c'è tutto un universo e infatti poi il protone non è fatto questo sempre preso dall'alz e martin non è fatto sulle tre quark quelli cosiddetti di valenza cioè quark che vediamo c'è tutto un mare di quark secondari che in cui si scambiano i gluoni che sono queste mollette qua alcuni di questi escono contribuiscono alla struttura del del nucleo addirittura nel protone è stato tra virgolette trovato anche tracce di quark strange di quark più pesante o meglio le correzioni date il principio di indeterminazione correzioni di Feynman sono quelle che ti dicono guarda ci devono stare anche questi e contribuiscono lottano assieme a noi contribuiscono alla massa del protone quindi è un oggetto complicato anche il protone appunto fatto di tre di tre quark quelli dominanti se volete i cantanti front line ma dietro c'è tutto il coro che eh che che contribuisce tranquillamente alla al successo dello spettacolo e a tenere insieme tutta la baracca direi che per oggi come inizio della complicatissima fisica dronica e fisica dei quark basta e avanza e vi ringrazio l'ascolto e alla prossima ciao